Sono Laura Facchetti, sono socia e responsabile qualità e comunicazione e marketing della ricolla alimentare Monteverde. La nostra azienda che produce pollo nasce nel 1950 da mia nonna, che aveva una grande passione per gli animali, aveva un centinaio di galline e vendeva le loro uova. L'attività poi venne implementata dai figli e da noi nipoti. Oggi la vicolla alimentare Monteverde è un'azienda a produzione verticale al 100%. La nostra azienda collabora con Italmark da oltre 20 anni, una collaborazione da sempre molto stretta e proficua che ci ha permesso negli anni di crescere insieme. Avere la filiera integrata significa avere il controllo completo di tutta la filiera che va dalla gallina riproduttrice, successivamente poi le uova prodotte vengono incubate, nascono e vengono allevate nei nostri allevamenti, siti prevalentemente in Lombardia. I nostri animali vengono alimentati con mangime prodotto da noi e poi vengono trasportati per la fase della trasformazione nel nostro stabilimento a Rovato. Questa nostra caratteristica di avere l'intera filiera ci permette anche di avere un controllo ferro su tutte le attività, su tutte le fasi. Oltretutto la nostra azienda è un'azienda ancora a forte carattere familiare e ognuno di noi si occupa di un settore diverso. In ogni fase abbiamo promosso ed incentivato una produzione sostenibile. Infatti stiamo cercando di implementare gli impianti di coibentazione, di areazione, di cogenerazione, impianti fotovoltaici che ci permettono di tenere sotto controllo le emissioni. La nostra azienda ha investito moltissimo su questo e questo ci permette anche di raggiungere livelli elevati di benessere animale. Abbiamo aderito ad un piano per l'utilizzo consapevole del farmaco che ci ha permesso da dieci anni a questa parte di ridurre di più del 90% l'utilizzo dell'antibiotico negli allevamenti. Tutti questi sono i principi alla base del prodotto che noi forniamo ad Italmark. Il prodotto Pascoli del fattore è un prodotto nato, allevato e trasformato in Lombardia con caratteristiche particolari a livello di allevamento, quali la luce naturale e la densità di allevamento che è inferiore rispetto a quella prevista dalla legge. Sono prodotti confezionati con packaging completamente riciclabile.